Il presidente russo Vladimir Putin si sta auto isolando a causa dei casi di coronavirus nella sua cerchia ristretta. Lo ha fatto sapere il Cremlino aggiungendo tuttavia che Putin è risultato negativo al Covid-19. L'annuncio è arrivato dopo un fatto abbastanza inusuale per il mondo sportivo russo. La campionessa olimpica di salto in alto Maria Lasizkene ha deciso di saltare l'incontro degli olimpionici russi con il presidente al Cremlino che si è svolto lo scorso fine settimana. Ufficialmente Lasizkene ha preferito la finale della Diamond League a Zurigo che però si è svolta l'8 e non l'11 settembre come invece l'incontro. Putin è stato completamente vaccinato con il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V ricevendo la sua seconda dose ad aprile. Spero che tutto sarà così come deve essere e che Sputnik V in realtà in vita potrà mostrare i nostri risultati. Secondo il suo portavoce Dmitry Peskov, Putin è assolutamente sano ma si auto isolerà dopo essere entrato in contatto con qualcuno che ha contratto il virus. Non è chiarito per quanto tempo. Al momento sarebbe negativo. Peskov non ha chiarito chi tra i contatti di Putin sia stato contagiato dicendo solo che ci sono stati diversi casi. Lunedì il presidente russo ha partecipato a diversi eventi pubblici. Durante l'incontro con i paralimpici russi Putin avrebbe detto che potrebbe presto essere messo in quarantena.